se ti serve un gruppo per giocare con qualcuno fare glitch scambiare o fare anche raduni ti ricordo di entrare nel mio gruppo telegram è il più grande in italia link in descrizione ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come detto al titolo come ogni giovedì aggiornamento settimanale e quindi come vedete sul veicolo del podio è la jugular la potete vincere con il trucco della ruota la fortuna infinita come al solito prima di cominciare iscrivetevi al canale e seguitemi su instagram mi raccomando il link in descrizione e vi ripeto iscrivetevi al canale ed attivate le notifiche per non perdervi tutte quante le novità su gta online quindi mi raccomando se non l'avete ancora fatto fatelo in seguito ragazzi per quanto riguarda l'autoraduno abbiamo come veicolo del podio la rt3000 settimana in più c'è anche un nuovo veicolo che è la shinobi adesso ve lo faccio vedere e domani come al solito uscirà il video modifiche e test quindi mi raccomando vi ripeto attivate le notifiche così però andate a vedere appena esce quindi come vedete la shinobi è la seguente costa 2 milioni e 4 ed è la moto che si trova all'interno dell'agenzia nel garage quindi come vedete è questa qui sembra una buona moto anche se costa un po' tanto perché sono 2 milioni e 4 invece per quanto riguarda gli sconti sul legendary abbiamo la dubashi champion come vedete è scontata in seguito tutte quante le auto formula 1 sono scontate come vedete la declasse dr1 la progen pr4 e la ocelot r88 sono tutte quante scontate in seguito abbiamo la overflow out arch che è scontata come vedete e poi la links che è sempre scontata sarebbe il veicolo elettrico se non ricordo male su san andreas abbiamo la carin previon scontata del 40 per cento mi sembra invece per quanto riguarda i business abbiamo tutte quante le agenzie scontate se non l'avete ancora comprate ragazzi io vi consiglio di farlo perché comunque è un ottimo business e vi permette di sbloccare alcune missioni che sono veramente carine come quelle lì di lamar e franklin quindi mi raccomando compratela se non l'avete ancora comprata anche sconto su carta da parati e tinta invece il resto come vedete non è scontato e anche ovviamente la struttura di base e in seguito altro tra virgolette business scontato ragazzi sono tutti quanti i garage quindi andando sul sito di dynasty 8 avrete tutti quanti i garage scontati eccoli qui quindi li potete comprare per quanto riguarda i soldi ed rp tripli abbiamo lavori di coppia che ragazzi sono missioni con franklin e lamar come leggete dalla descrizione penso siano missioni nuove non le ho ancora provate fatemelo sapere nei commenti in caso ci farò insomma dei video a riguardo invece soldi ed rp doppi ce l'abbiamo su la missione in cui insomma dobbiamo recuperare la chiavetta per dr 3 quindi non sul contratto intero ma solamente sulla missione in cui dobbiamo andare a casa di quello lì che fa trading non so se ce l'avete presente non mi ricordo come si chiama la missione e poi ragazzi su tutte quante le missioni in cui franklin ci manda dei contatti da uccidere quindi le missioni omicidi in linea e poi anche tutti quanti gli associati e i bodyguard del ceo che lavorano con voi avranno soldi doppi quindi amici le prove a tempo sono le seguenti spero il video vi sia piaciuto vi ringrazio la visione e noi ci vediamo al prossimo video